Per il momento si va avanti così. Ad oggi Roberto Boscaglia resta l'allenatore del Foggia. Nessuna intesa è stata raggiunta sull'eventuale risoluzione contrattuale che a questo punto non è nemmeno più scontata. Stamane allenamenti diretti dal suo staff in primis dal suo vice lo Monaco cancelli chiusi alla FIGC, dentro squadra al lavoro fuori invece. A campeggiare uno striscione a caratteri cubitali che spiega quello che è l'umore degli Ultras. Una situazione surreale mentre la settimana di lavoro dei rossoneri entra nel vivo e il derby di Taranto in programma sabato comincia pian piano ad avvicinarsi. Nella mattinata di ieri sembrava che l'interruzione del rapporto tra l'allenatore di Gela e il club del presidente canonico fosse questione di ore. Poi quelle stesse ore sono trascorse in vano senza partorire accordi e di conseguenza il protrarsi della situazione ha paradossalmente riavvicinato Boscaglia al Foggia. C'è da dire tuttavia che al momento gli scenari appaiono tutti aperti perché se è vero che Boscaglia resta sotto contratto è altresì vero che lo stesso da due giorni non dirige gli allenamenti affidati invece al suo staff. Cosa accadrà? Possibile che si continui a ragionare nel tentativo di giungere ad un accordo. Di certo in un senso o nell'altro una soluzione va trovata e a stretto giro.